Allora, è chiaro che quando tu alla fine del terzo quarto hai tenuto gli avversari a 38 punti in un'altra serata in cui offensivamente abbiamo spinto nel secondo quarto e poi abbiamo sostanzialmente amministrato non puoi che essere soddisfatto della prestazione di tutta la tua squadra a fronte di una serata in cui, ma capita perché siamo tutti esseri umani i nostri esterni tirano 12 su 38 del campo però le note positive sono anzitutto il progressivo rientro in condizione di Michele Antonutti l'utilissima prestazione di Brandon Walters siamo arrivati al paradosso che gli arbitri vengono da me a chiedermi scusa dopo averli fischiato fallo perché si accorgono dopo che non c'era ma noi siamo contenti di un giocatore che intasa l'area disturba linee di passaggio, prende rimbalzi e che è un po' stanco di vedere gli arbitri che poi alla fine li fiscano fallo e vengono da me a dirmi scusa coach non c'era però siamo contenti del recupero dei due giocatori che erano fuori da tanto tempo Michele e Brandon Francesco Pellegrino, un'altra prestazione eccellente questa sera Itano Esposito atleticamente pronto ma poco preciso siamo contenti di aver fatto esordire un giovane frulano Mattia Bertolissi che ha 15 anni in Serie A2 quindi diciamo non poteva esserci partita migliore di questa per prepararci a un big match come quello di Pistoia di domenica prossima adesso abbiamo chi due giorni, chi un giorno e mezzo di libertà la settimana prossima sarà una settimana importante dobbiamo lavorare per restituire un po' di freschezza a quei giocatori che hanno veramente guidato la squadra in questa prima partita di stagione cioè Cappelletti e Giuri che sono stati eroici mentre un ragazzo che ha potuto allenarsi durante il Covid come Trevor Lacey si vede perché è la seconda partita consecutiva che determina l'esito della gara in una partita in cui gli altri non segnano lui segna e questo è importante perché ci sono delle partite in cui gli altri segni allora lui si limita a fare altre cose questo equilibrio e questa consapevolezza di giocare sempre in dieci tenete conto che oggi avevamo fuori Nazareno Italiano per rotazione mi soddisfa molto il discorso relativo alle percentuali è un discorso molto connesso appunto alla forma fisica cercheremo in questa settimana pre-Pistoia di migliorare la condizione dei nostri giocatori ritarando il lavoro in modo tale da averli più lucidi e più freschi possibile in quella che sarà una vera e propria battaglia contro una squadra che ha fatto un campionato straordinario come Pistoia fino a questo momento non so quale sarà l'esito della loro partita questa sera ma sicuramente sia che loro vincano come è probabile a Piacenza sia che loro perdano sarà veramente un partitone dal punto di vista emotivo dal punto di vista tecnico dal punto di vista strategico e quindi siamo contenti di andare a giocare questa partita e mi sembra anche giusto che andiamo a giocarla in trasferta perché è chiaro che le grandi squadre costruiscono i loro successi su solidità casalinga ma su coraggio fuori fino a questo momento abbiamo tranne l'episodio di Biella che ormai è accantonato dopo due vittorie convincenti due pareggi con Treviglio già rimediato con la vittoria in casa di Venti e il pareggio contro Cantù adesso vediamo di andare oltre un pareggio nella prossima trasferta grazie